siamo qui tornati con un nuovo video oggi siamo qui con un nuovo episodio del road to prestige su call of duty black ops 4 momento ignorante a parte mi sono appena ricordato che stavo facendo la intro dell'anno scorso e non quella attuale è stato piuttosto imbarazzante ho controllato una cosa qui mi risulta che sono a livello 13 ma se provo a guardare se provo a guardare quando non sono in partita mi risulta che sono a livello 11 mi sa che c'è un errore nel conteggio dei livelli non capisco perché c'è questo errore questo dove era doppia con la pistola anche se potevo anche non scambiare arma ho detto anche due volte nella stessa frase questi erano due le armi a raffica sono troppo forti devo smettere anche di usare mitraglioni perché talmente ci gioco bene con i mitraglioni perché sono un nabbo doppia dos mas por favore ma che lingua stai parlando mi ammazza l'alleata mi sa che non vuole i messicani squadra più più che gioie sono dolori sono messo male headshot non è morto doppia e la tripla no però sono riuscito a fare un drop shot avevamo detto che era impossibile da fare i drop shot sono infattibili a volte mi vengono a volte totalmente a prostitute vanno 14 23 migliore squadra nonostante la sconfitta terrificante devo capire ancora qual è la mitraglietta con la quale posso andare bene il gunfight sarà principalmente qui quello era già andato a nuoto forse è meglio elevarsi da qui perché non ho una buona mira ma i rumori quelli pesanti devo muovermi ad arrivare al livello 21 io sto brancolando nel buio dove sto andando quanto l'ho smirata non vedo l'ora che arrivi in natale così ci sono i nabbi di natale dove posso registrare salvarmi qualcuno non esce sconfitta i c20 troppo scarso a sto gioco ancora in due qualcuno nella parte sbagliata c'è qualcuno sempre bello schifo questa partita un'altra partita grazie un altro youtuber in squadra grande questa mina se trovassi qualcuno magari mi sono seriamente perso figlio della lurida ma proprio lì ma è così in scivolata mi sentivo troppo cannavaro chiamiamo il cane ma è così come si chiama luogo come lo chiamo luogo chiamiamolo luogo elicottero devo chiamare anche verso se ma se sto l'elicottero fa qualcosa cioè l'elicottero molto come sei a metà questo elicottero non fa niente non ne ha chiuso nessuno grande ancora la mina fantastica ancora la mina ma poi io sono morto no no non puoi farmi la migrazione host adesso sto giocando dicettamente per favore ti prego mantienimi in partita per favore io aspetto quindi mi ha fatto uscire gioco fantastico un'altra c'è il doppio conto alla rovescia utilità in questo doppio conto alla rovescia elefanti in libertà non posso fare una tripla no no non posso abbiamo il cane va il cane ma perché il cane vinto questa mappa esce di continuo inizio sempre bene non ho le mani grazie 0 6 quality gameplay aggiungiamo anche qualche altra morte in più così bilanciamo no mi spavento sempre pure l'alleato ci si mette in mezzo fanno apposta io sono io con l'incapace ogni volta che sparo quello sbagliato date proprio tutti a dove sto andando nell'angolo si è piazzato in due vinto positivo anche stavolta 16 13 ok e di nuovo su summit non è morto il pompa non è morto non è morto non è morto meglio io smiro quindi questo mi uccide potevo farcela doppia ce n'è un terzo l'alleato bello schifo ma un buon modo per concludere un episodio non è morto non è morto non è morto non è morto